Perchè non parlano di questo? Corona, lei cosa dice? Cosa vuole che dica? Lì avete parlato finora di maiali o ci sto facendo la figura del pollo qui? Perchè Corona? Non posso fare un discorso, sviluppare, ma non cedo la parola, parlate voi, non si può maltrattare uno così, non farlo parlare e non poter sviluppare un discorso che abbia un senso un filologico. Mi scuso con lei, ci sono stati diversi imprevisti, tra cui l'intervento della Lorenzini. Vi cedo volentieri la parola voi e i vostri maiali e polastri. Ma no Corona, non faccia così insomma. E vi prego, vi prego, la prossima volta non venitemi più a scocciare, sono otto ore che sto qui in posa senza poter parlare. Ora adesso vi saluto, perchè mi sono rotto i coglioni che non mi fate parlare, quindi vi saluto e buona pace e buoni maiali a tutti voi. La ringrazio Corona, mi dispiace che non voglia più parlare. Fuori delle palle. Vabbè, un po' di educazione non basta, capisco che si è arrabbiato, però insomma non lo so. L'educazione dovete averla voi, non invitare a fare il pagliaccio una persona. No, no, ma che pagliaccio Corona, però se non vuole più approfittare dell'occasione per parlare mi dispiace. No, 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 ho approfittato abbastanza di fare il fesso qui di fronte a voi. Ma e Corona, se lei adesso vuole può dire quello che pensa, se non lo ritieno opportuno. Ma cosa volete che dica, non c'è un filo, non posso più seguire un filo. No, 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 non posso più seguire un filo, un discorso di cosa devo parlare adesso. Ma lei vuol dire qualcosa a questi ragazzi, Corona, fra i nostri ragazzi c'è per esempio Guglielmo l'allevatore, vuole dirgli qualcosa oppure niente, ha gettato la spugna. Io penso che uno fa l'allevatore e uno fa il protezionista, ognuno è libero di fare le proprie scelte etiche, morali e quello che volete. Avrei voluto parlare dell'agricoltura, di un ritorno alla terra, l'imprenditoria di terra, ma perché mi sono rotto le scatole, adesso non dico più nulla e vi saluto. Allora, getto io la spugna, non so cosa dirle. E non azzardatevi più a chiamarmi a queste cose. Il concetto è arrivato forte e chiaro. Allora, getto io la spugna.